Nella classifica delle cose più difficili che ho fatto in primo luogo è la pedonalizzazione di Piazza Duomo a Firenze. Quindi mandando a casa Conte. Il terzo sarà il prossimo. Ribaltando l'Europa sarà la prossima bella sfida che faremo. Il gioco del centro è bellissimo. Matteo Renzi lo disse. Che interviene all'IV Regional Festival di Firenze. Abbiamo tutte le credenziali per fare un buon lavoro. Devi salire sul campo per fare una buona battaglia ha aggiunto. Nei prossimi nove mesi sono lotte senza quartiere. Sempre per quanto riguarda le sfide Renzi ha affermato che. Sui salari minimi. Se pensi che mi fermo su questo avrai nove mesi di sfide ogni giorno. Lo stipendio minimo come proposto dal Partito Democratico non è in piedi. 2018 abbiamo proposto il salario minimo tra 9 e 10 euro. Il CGL non ci ha detto. Nella posizione dell'Italia vive in Parlamento. Credo la cosa fondamentale questo settembre metta davanti a noi e esiste un governo non è governo e. Un'opposizione non sta facendo l'opposizione. C'è un governo in versione un'opposizione che i MSC e in questo contesto facciamo il centro. Ha detto Renzi. Quindi ha aggiunto rispondendo ai giornalisti rispetto ai gruppi e come gestiremo li vedremo. Nelle prossime settimane. Il punto chiaro è che il governo non governa e l'opposizione non fa l'opposizione ne viene tentato di. Fare qualcosa o il Tolantri va in crisi.